Siamo in compagnia della Presidente di Fisch Calabria, Nunzia Coppedè. Innanzitutto ti salutiamo, Nunzia. Ciao. Allora, quest'oggi vorremmo parlare di un'iniziativa, anzi di una campagna, che si chiama Persone Non Pesi, che è organizzata da Fisch Nazionale. Ce ne vuoi parlare, Nunzia? Sì, Persone Non Pesi è un'iniziativa che serve fondamentalmente per due cose. Una è per far conoscere anche quello che facciamo e l'altra è per raccogliere dei fondi. È la prima volta che la Fisch fa un'iniziativa per accogliere fondi, non l'abbiamo mai fatto, anche perché la Fisch per sé non è un'organizzazione che gestisce servizi, però adesso è arrivato il momento, insomma, ci abbiamo pensato anche per aiutarci ad andare avanti, per autosostenerci, perché riteniamo che comunque quello che noi facciamo sono cose molto utili. È vero che non gestiamo servizi, ma è vero che facciamo tutto un grande lavoro di empowerment, di advocacy, di attività politica per il superamento dell'handicap, a favore dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, ed è una grossa attività che se non la facciamo noi, davvero ritorniamo indietro di tanto tempo, le persone con disabilità ritornano ad essere rinchiuse di nuovo, segregate, e questo non è certo quello che noi vogliamo e credo che sia giusto che non lo voglia nessuno. Assolutamente, tra l'altro c'è anche da far notare che ci saranno delle misure del governo, mi pare che tu l'hai postato tra l'altro sulla tua pagina Facebook, che parlano proprio di riduzioni dei tagli veri e propri, non tanto alle persone disabili, quanto ai fondi stanziati. Ma di fatto da quando stiamo parlando di crisi abbiamo iniziato un periodo che sentiamo sempre parlare di tagli di fondi, ora questo nuovo governo, questo nuovo governatore Renzi, giovane, che in qualche modo si sperava anche in una svolta positiva, ma è tornato con una proposta ormai vecchia, che hanno utilizzato tutti i governi, è quello di voler ad esempio tagliare sulle indennità di accompagnamento e si parla anche di pensione di reversibilità. Allora, questa è una politica vecchia, è una politica che torna ogni volta che ci sono problemi economici e per cui trovare delle soluzioni adeguate, questo è un modo però di risolvere problemi creando la guerra tra poveri. Non è certo questo il luogo dove bisogna attingere le risorse, perché è vero che l'indennità di accompagnamento è una cifra che poi, tutto sommato, guardate che l'Italia è quella che spende meno di tutti i paesi europei per l'assistenza alle persone con disabilità, per cui non è neanche una cifra così importante come dicono, non è una cifra che soprattutto aiuta a risolvere problemi, è una cifra però che si è tolta, manda ancora di più persone con disabilità, famiglie intere in grossissima difficoltà. E poi una cosa vorrei dire, la Calabria è la regione che recepisce più indennità di accompagnamento, è vero, ormai tutte le statistiche lo dicono, però la Calabria è anche quella che ha meno servizi, per cui in qualche modo probabilmente questo qui incentiva anche il bisogno, poi essendo anche una regione che ha un'altissima quantità di poveri, è quella che ha più povertà in assoluto di tutta l'Italia, per cui laddove ci sono le persone con disabilità il discorso della povertà è ancora più incentivato, senz'altro ci sono molti poveri, ci sono molte persone con disabilità, non ci sono servizi e forse questo sono tre buoni motivi anche per capire che essere più persone che prendono l'indennità di accompagnamento in qualche modo può essere motivato anche da tutto questo. Certo, a livello di strutture, di adeguamento di strutture pubbliche, ad esempio i bar? Ci sono, adesso molte strutture pubbliche si sono anche adeguate ad accogliere persone con disabilità, per cui magari hanno lo scivolo, ma non tutte, tanti hanno pure scalini, per cui noi non ci andiamo giustamente, o qualche volta proprio perché non ne possiamo fare a meno, prendiamo un caffè fuori la porta, però senz'altro non ci sentiamo accolti da certi ambienti. Poi ci sono la questione che mi facevi notare dei servizi. Sì, il problema è che le politiche ci ritengono quelli che facciamo spendere molto, però quando pensano a cosa fare per la disabilità, pensano sempre a cose speciali. Allora, forse di qualcosa di speciale potremmo anche averne bisogno, senz'altro. Però ci sono tante cose speciali che si potrebbero evitare se quelle che sono per tutti fossero adeguate anche alle persone con disabilità. Molte volte basta poco, non serve molto. Io faccio sempre un esempio che rende quello dei bagni, chissà perché ci devono essere bagni per uomini, bagni per donne e bagni per disabili. A parte il fatto che non viene rispettato ad esempio la differenza di sesso per le persone con disabilità, mentre per gli altri sì, come se le persone con disabilità avessero il sesso degli angeli. Non hanno sesso, sono sessoate. E poi perché fare un bagno accessibile a persone con disabilità quando basterebbe fare gli altri due un pochino più grandi. Non solo, ma oltre tutto questa ricerca della specialità molte volte porta a fare delle cose che sono meno accessibili di quelle normali. Ad esempio il water per disabili è un water che il 99% delle persone con disabilità non possono utilizzare. Chiaramente, anche perché comunque è fatto in maniera differente. Io a questo punto, Nunzia, terminerai la nostra intervista dando i riferimenti del FISH nazionale dove si possono appunto donare questi soldi e in che modo? Allora certo, diciamo appunto persone non pesi, noi ricerchiamo l'inclusione sociale e per continuare a lavorare, per continuare a coinvolgere tante persone con disabilità e familiari nella nostra rete ed insieme e fare in modo che il desiderio dell'inclusione diventi realtà, chiediamo appunto un aiuto che con un SMS si può fare nel periodo dal 24 marzo al 30 marzo. E' una settimana, qui guardate, hanno aderito un po' tutte le agenzie telefoniche, c'è la TIM, la Vodafone, la Wind, la 3, la Poste Mobili, la Coop Voce, la Noverca. E poi con il numero, il numero è 45502, con questo si possono donare 2 euro, si possono donare 2 euro anche con la chiamata da rete fissa, con Tele2 e Tut e poi si possono donare dai 2 ai 5 euro con chiamata da rete fissa, con Telecom e FastWeb. Per cui aiutateci ad aiutare, perché questo ci permette di poter aiutare persone con disabilità a realizzare una propria vita e anche ad aiutare soprattutto a sostenere le loro famiglie, perché a loro volta aiutino le persone con disabilità a crescere da persone libere. Grazie. Grazie Nunzia davvero e chi volesse può anche andare sul sito che è www.personenonpesi.it, scaricare il banner, metterlo sul proprio sito, sulla propria pagina web e come diceva appunto la nostra Nunzia Coppedè, presidente di Fish Calabria, donate per dare la possibilità di essere indipendenti e appunto persone non pesi. Grazie Nunzia ancora. Arrivederci, grazie e mi raccomando, fate sms, grazie. Grazie a tutti.